che stai mangiando la pastina in bianco col parmigiano e com'è questa pappa mamma mamma l'ha cucinata e com'è è buona di chi è questa pappa? di chi è? papà papà la vuole ma è di chi è questa pappa? di chi è? è mio è mio e mangia mangia Gabriele ma sei mancino tu? no papà stai fermo mangia amore mangia papà e come tiene la bocca grande Gabriele? fammi vedere che bocca grande ha Gabriele avevi la bocca grande grande fammi vedere Gabriele un po' di pastina scaldata parmigiano e olio non è non è plastico Gabriele che sei? tu non rompi? dai bravissimo mamma fai ciao a tutti fai ciao a tutti fai ciao ciao con la manina ciao ciao e butta un bacetto fai ciao ciao a tutti fai così ciao ciao fai tu ciao a tutti dici dici tutti dici dici